a Firenze. Tutti i giovedì alle nove e quindici in diretta radio e in web tv su Facebook e sul sito di Controradio. Le nove e cinque ritmo senza pause senza tregua subito ripartiamo con la nana bianca come tutti i giovedì oggi è il quattro di ottobre duemiladiciotto questo è il Controradio la nana bianca ci racconta dell'innovazione della cultura digitale è venuto a trovarci Paolo Barberis buongiorno Paolo. Buongiorno ben trovato con Giovanni Meoni che è il fondatore di WIP buongiorno giovanissimo quanti anni ha? perché sembra un luogo comune i giovani le start up invece è vero. No 27 ma dai magari sembro più giovane ma ormai qualche annetto. Che cosa ci porti questa settimana Paolo? Stiamo parlando questa volta di una cosa che finora non abbiamo toccato il settore dello sport che sta avendo una virata verso il mondo del digitale importante noi facciamo cultura digitale digitale può essere ovunque in ogni settore o diciamo dello sport? Sì lo sport sicuramente è un tema molto rilevante perché permette quella cosa che internet e l'online fa molto bene che è quella di loggare se pensate la parola blog nasce un po' da questo dal loggare la propria vita loggare la propria vita vuol dire appunto tenere traccia di quello che succede a noi e alle persone che ci stanno intorno quindi tenere una sorta di diario sui propri risultati e motivarsi giorno per giorno grazie al vedere come stiamo evolvendo nelle performance. Per quanto riguarda quindi il mondo del benessere in generale è importantissimo tenere traccia infatti poi magari in futuro vedremo anche il tema tutto del wellness no che è fondamentale del tracciamento dei parametri vitali e di come evolvolo in particolare un settore all'interno di un sottosettore è quello dello sport che può tracciare sia come dire cosa stai facendo a livello sportivo sia cosa sta succedendo al tuo corpo mentre tu stai facendo sport in particolare whip è una una bellissima app con un team molto forte adesso poi Giovanni ci racconterà i dettagli che va a tracciare proprio la nostra vita negli sport ad ora in particolare in quello delle due ruote quindi parliamo di mountain bike parliamo di moto quindi un'attività sempre crescente anche con l'ingresso poi delle e-bike che stanno sicuramente prendendo quote di mercato perché sono una pedalata assistita che ti permette di fare come dire anche se non sei allenatissimo boschi e strade impervie in una maniera come dire molto emozionante e avere quindi il proprio telefonino come tracker delle delle attività quello che è cambiato nel tempo è che tu non non ti confronti solo con te stesso ma riesci e qui entriamo come al solito nella cerchia diciamo sociale nella caratteristica sociale della rete di a confrontare le tue performance quindi puoi veramente andare a confrontarti con un gruppo di amici o anche con sconosciuti e vedere ad esempio nei tratti rilevanti della tua performance cosa sta succedendo quindi puoi fare delle cose che prima non potevi fare ad esempio non so andare in alta badia a fare il muro del gatto vedere quanto ci metti e quanto ci aveva messo l'ultimo campione del giro d'italia oppure il tuo amico che con cui ti sfidi a distanza è divertente interessante istruttivo e molte cose e ci aiuti a rispondere alla domanda su come sta evolvendo questo settore perché come dire ci sono tante app relative a tante tipologie di sport sport estremi allenamenti eccetera eccetera come nasce invece l'idea alla base di WIP come funziona nel concreto cosa significa? Allora innanzitutto WIP come diceva Paolo diciamo lavora con degli sport outdoor su due ruote che sono abbastanza diversi perché sport motoristici e sport ciclistici uno li vede come due sport molto diversi in realtà condividono gran parte di quello che interessa a chi sta sopra la bici o chi sta sopra la moto quindi le metriche che vengono raccolte che sono interessanti sono molto simili ma il problema è che prima non esisteva WIP perché c'era proprio una barriera tecnologica noi abbiamo investito molto sulla tecnologia perché tracciare le performance di una moto a 50 60 70 80 chilometri orari non è come andare in bici o a piedi o correre a piedi che tu vai 10 chilometri orari e il gps del tuo cellulare riesce a tracciare il tuo giro in realtà su una moto noi abbiamo quindi risolto prima uno scalino tecnologico e ovviamente l'idea è nata prima abbiamo risolto lo scalino e poi abbiamo quindi realizzato tutto quello che è la nostra integrazione perché WIP adesso non funziona solamente con lo smartphone quindi non funziona solamente con dispositivi android e ios si può scaricare dallo store WIP live si chiama l'applicazione ma si integra anche con dispositivi come garmin e gopro quindi se una persona va in moto ad esempio non ha il cellulare con sé ma usa una gopro un action camera che ha all'interno dei sensori di telemetria poi può scaricare i dati all'interno di WIP live e può sincronizzarsi quindi con il suo account nella sua community di WIP e si può quindi confrontare in ogni percorso che fa in ogni salita ad esempio chi fa mountain bike in discesa gravity quindi enduro downhill può prendere un pezzo di discesa e dire ok questo qui è il punto in cui voglio confrontarmi con i miei amici con le altre persone e qui diciamo lo sport è fare diciamo lo sport alla fine competizione no è sempre dovunque quindi invece il nome WIP nasce da una cosa particolare che è diciamo un trick che viene fatto in moto in bici che è quando si inclina la moto per aria nel salto o la bici nella moto nel salto che significa frusta letteralmente però è proprio quel movimento che uno fa conosciuto nel settore in generale anche noi facciamo sempre di solito cose del genere quando facciamo downhill nel fine settimana a parte le battute in realtà questa cosa mi serve per chiederti di una tematica che è importante non c'è niente da scherzare che quello della sicurezza negli sport outdoor che viene migliorata grazie all'apporto del digitale come funziona questo aspetto allora diciamo che avere un dispositivo connesso alla rete ovviamente ti dà la possibilità di essere sempre visibile rintracciabile e tracciabile anche dall'esterno ovviamente questo è possibile grazie a un qualcosa che si chiama beacon in gergo quindi un dispositivo che dalla tua posizione gps la manda in rete e le persone che tu vuoi condividere in questa posizione sanno dove sei whip apporta un ulteriore passo in avanti secondo me in questa in questo senso perché perché non ci sta molto a cuore ovviamente la parte di sicurezza è anche per i nostri utenti è molto importante mentre molte altre applicazioni del settore anche molto importanti danno questa funzionalità a pagamento noi abbiamo deciso di renderla gratis a tutti quindi una funzionalità che si chiama safety tracking ti permette all'interno di whip di andare sempre in sicurezza e quindi di mandare un sms alla fidanzata che ti aspetta a casa ad esempio in cui c'è un link basta aprirlo senza nemmeno scaricare whip e puoi vedere in tempo reale il giro che hai fatto e che stai facendo quindi se si succede qualcosa le persone possono essere informate di dove sei se sei scivolato ad esempio eccetera eccetera c'è un comunque un apporto tecnologico importante in questa esperienza mi sembra di sentirci dei passi avanti interessanti assolutamente perché si sta andando proprio nel nel mondo più complesso che è quello del tracciamento real time che è quello della geoposizionamento che è quello del cercare di usare i sensori del telefonino con una frequenza diciamo più alta di quella che solitamente si usa fare quindi una complessità molto maggiore nel rispetto poi del risparmio della batteria che tecnicamente è una delle cose come sapete il problema energia telefonino è una delle cose di più difficile soluzione no tutti noi lo sappiamo quando appunto non riusciamo arrivare a fine giornata con la batteria quindi abbiamo sempre bisogno di una presa e quindi non puoi neanche fare una cosa che in due ore ti toglie la batteria e qui allora no il problema sorgerebbe forte quindi ci sono tanti dettagli tecnici che non si vedono che provano veramente molto in profondità e ci vuole una altissima conoscenza del mondo appunto del dei linguaggi di sviluppo delle app cosiddette native che sono quelle che sfruttano al me che trovate sugli store che sono quelle che sfruttano al meglio tutti la sensoristica a bordo non è meoni scoprire tracciati incontrare altri appassionati noi abbiamo sempre uno sguardo ampio però finiamo sempre su firenze che percorsi ci sono in zona firenze per anche per trovarsi per misurare un po le proprie prestazioni parto dal presupposto che chiunque può creare un percorso quindi chiunque traccia una volta il suo giro anche nel nel podere dietro casa nel boschettino e non c'è nessun percorso tracciato e lo può aggiungere però noi siamo partiti diciamo facendo una partnership con firenze free ride che è un'associazione di diciamo di più importanti a firenze quindi se aprite l'app whip live all'interno della parte explore ci sono moltissimi percorsi qua a firenze e anche alle porte di firenze quindi un posto che a me sta particolarmente a cuore è ad esempio a rincine che nelle montagne qua nei boschi casentinesi in cui c'è proprio un bike park con cui noi abbiamo appunto collaborato e ci sono veramente lì tanti percorsi da poter da poter fare in cui poter già confrontarsi però firenze interessante perché circondata da un territorio di grande prossimità rispetto al centro storico per cui gli spunti non mancano no dalle coline di scandiccia ad esempio vincigliata a maiano è lì è il posto il paradiso diciamo del del cittadino firentino che vuol fare sport esempio enduro perché lì ci sono moltissimi percorsi tracciati tutti all'interno di whip basterà aprire appunto l'applicazione e vedere quali sono i percorsi in quella zona andate a cercarevi whip live w h i p paolo babbesi che ci insegna questa storia ci insegna che possiamo anche da firenze partire con come dire delle tecnologie molto come dire profonde no non stiamo parlando solo di front end ma stiamo parlando di andare un po con le mani dentro ai sistemi più complessi e devo dire con una cura del dettaglio che non ti aspetteresti per per una startup italiana che comunque deve andare verso la cosiddetta direzione che in giargo si chiama pixel perfect che vuol dire fare proprio le applicazioni native che come dire ti aspetti che corrispondano al massimo della della sofisticazione anche a livello di UX design e questo sappiamo quanto sia importante questa cosa ripetiamo ogni volta di essere un po come dire in una culla crocevia di di arte e tecnologia speriamo e vogliamo che aggiungendola al design come dire diventi un po il punto di forza della città l'altra cosa l'altro insegnamento è che in nana bianca appunto si possono trovare casi di questo tipo in cui puoi avere a che fare con eccellenze che magari pensavi di poter trovare solo in in paesi lontani quindi ad esempio venire a lavorare in co-working da noi significa anche poter parlare con il team di WIP o con anche tanti altri team di startup che sono che sono già cresciute e sono già diventati più grandi team WIP è in una fase diciamo cosiddetta di pre revenue cioè deve ancora iniziare a fatturare perché sta lanciando la sua app come diceva joelle la possiamo scaricare esce dalla beta proprio oggi o domani insomma quindi comunque è anche bello poter provare per la prima volta una app come dire che è nata qui ma possiamo anche lavorare gomito a gomito con altre startup che hanno anche una dimensione maggiore su una fase di maturità maggiore quindi una cosa che mi invito a fare di venire anche a visitare nana bianca vedere se c'è posto anche per voi se avete bisogno o voglia di lavorare insieme a noi insieme a questi team eccezionali. Insomma quasi se l'ultima è arrivata una domanda io vi giro con molta umiltà c'è solo la versione beta giusto? E come diceva Paolo adesso sta uscendo proprio in queste ore la prima versione fuori dalla beta quindi diciamo perfezionata la beta è quella ancora da smartellare un po' e da scolpire meglio ma invece sta proprio uscendo e ci sono grandissime migliorie funzionalità nuove. I nostri ascoltatori sono sempre molto più preparati di noi questo messaggio arrivato di noi che noi noi e non voi ovviamente è un messaggio arrivato su whatsapp la nana bianca torna la prossima settimana sempre i giovedì sempre le nove e un quarto quest'oggi abbiamo parlato di whip whip live con Giulio Leone. Grazie Giulio per esserci venuto a trovare grazie a Paolo Barberis. Buona giornata anche a te. Grazie. One, two, start up. Start up. Un programma a cura di Nana Bianca e Controradio alla scoperta delle start up più innovative a Firenze. tutti i giovedì alle 9 e 15 in diretta radio e in web tv su facebook e sul sito di Controradio. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie per la visione